Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della compagnia dei nabbi video molto diverso da quello che porto, capirete tra poco il perché però quando ho avuto la richiesta di fare questo video mi sono subito detto si facciamolo immediatamente, ovvero è un video per la campagna Creators for Peace ingaggiata da Unicef per sostenere i bambini sfollati della guerra in Ucraina adesso andiamo a vedere in che cosa consiste, cosa sto sponsorizzando e cosa potete fare voi ma anche io per aiutare tutti questi bambini che sono le vittime della guerra purtroppo sapete ormai oggigiorno la guerra sta incombendo, sta crescendo chi rimane senza casa, sfollato, genitori e anche molti 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 bambini come potremo vedere dalle immagini che vi farò vedere andiamo a vedere nel dettaglio e poi abbiamo fatto un po' di tempo e poi abbiamo fatto un po' di tempo e abbiamo fatto un po' di tempo quindi abbiamo deciso che è ora di andare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo solo una piccola superficie. Vi faccio vedere, scorro delle foto mentre parlo di questa cosa, perché è un progetto che avevo in mente di fare, però per conto mio non è facile come avere un'associazione umanitaria come quella di Unicef, che stanno consegnando e aiutando un sacco di persone, addirittura i prodotti per l'igiene da un camion scaricano. Scaricano e quindi voglio dire, ecco, i bambini con i loro animali domestici devono scappare, sono costretti. Io vorrei vedere se succedesse a qualcuno di noi come potremmo comportarci, come reagiremo. Io non vorrei mai ritrovarmi così, me o mia figlia o persone a cui voglio bene intorno a me. Ecco perché ho cercato di portare nel modo più crudo possibile questo argomento e ragazzi non vi costa nulla. Anche io farò la mia parte, lo sto facendo al di là del canale, di tutto quello che sono io, perché è una cosa in cui credo e voglio fare. Non so se in Italia ci sono altri creators che stanno portando e sponsorizzando il Creators for Peace tramite Unicef nei loro canali. Non mi interessa, queste notizie qua sono prese dall'Unicef proprio, quindi voglio dire, non è proprio fuffa insomma. Condividete il sito che sto per dirvi per effettuare le donazioni con tutti i vostri amici, nonni, zii, parenti, tutti quanti. Qui dovete veramente, scusate, nel frattempo il cane purtroppo respira, no scherzo. Condividetelo con tutti quanti i vostri parenti, insomma, perché è una cosa veramente importante. Poi ve lo scriverò nei commenti del video, cioè sotto al video, nella descrizione. Eccolo qua ragazzi. Creators for Peace, ok? Aiutagli oltre un milione di bambini, un milione di bambini ucraini sfollati. Questa cosa l'hanno, questa iniziativa l'hanno fatto, l'hanno fatta dall'estero. Io mi hanno mandato l'invito, ho visto il video di presentazione e sono tutti creators stranieri, ok? Però l'hanno fatto e quindi la cosa funziona, è valida, è veritiera. Quindi, nel frattempo c'era Svideo nell'angolino, un saluto a Svideo. Eccolo qua, come puoi aiutare? Donando, non devi fare nulla. Cioè, c'è chi sta passando la guerra e si ritrova fuori casa con la città completamente distrutta. Noi non dobbiamo fare altro che cliccare un semplice tasto, donare. Ok. E ci riporterà direttamente alla pagina per... Vabbè, adesso questo passa dall'italiano allo straniero, però vi parte, eccola qua. Ok, parte direttamente in dollari. Allora, sono stati donati? Se vedo bene, perché questo evento si riterrà solo questa settimana. Io sono arrivato in ritardo, durerà fino a lunedì. 9.182 dollari e il traguardo era 100.000, però comunque 9.182 dollari è veramente tanta roba. L'ammontare minimo della donazione è 5 dollari. E quindi, ragazzi, potete donare con G-Pay, Paypal, carta di credito, un bonifico bancario, qualsiasi cosa voi vogliate usare, non avete scuse, ragazzi. Io l'ho già fatto, è una maniera veramente molto semplice. Sono le solite cose come fate voi le donazioni live. Mi raccomando, voglio vedere veramente tante persone che donano, anche fossero 5 dollari, ma 5 dollari potrebbero fare veramente la differenza per questi bambini che si stanno ritrovando in una situazione veramente pietosa, ragazzi. Io le immagini ve le ho fatte vedere, ve le faccio rivedere, tutti qua a bordo in un treno di evacuazione a Leopoli per scappare dalla loro città natale, ragazzi. Cioè, è una situazione che veramente, guardate le immagini, tutti nelle tende con le valigie, prende uno, prende, scappa. Addirittura qua dice che c'è una mamma con la sua bambina che viveva al quindicesimo piano di un palazzo, quindi cosa fai? Vai direttamente a terra, c'è la guerra, prendi quello che puoi prendere e te ne vai. Hanno a mano appena, scusate per la tosse, hanno a mano appena dormito dentro un bagno. Dentro un bagno, ragazzi. È una situazione veramente disumana. Nulla. Nulla. Famiglie, famiglie su famiglia, di bambini, con bambini e tanti bambini. Ragazzi, grazie per avermi ascoltato per questi pochi minuti. Io spero che voi facciate la vostra parte per il progetto Creators for Peace. Ringrazio l'Unicef per avermi dato questa opportunità. Che dire, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.